Il professore ha portato in giunta la applicazione di quanto stabilito in conferenza Stato-Regioni sui tempi d'attesa. I tempi d'attesa sono un problema che tocca direttamente al cittadino e quindi l'intenzione di non perdere tempo, di dar subito applicazione ad alcune novità che sostanzialmente sono cittadino al centro, corrispondere ai suoi bisogni, un lavoro di squadra in modo da avere risposte omogenee in tutte le aziende territoriali, un referente per ogni azienda per i tempi di attesa che vuol dire quella persona che farà in modo che il cittadino capisca quale è la risposta ai suoi problemi e un percorso anche di accompagnamento reciproco col cittadino perché le prestazioni servono quando sono necessarie e come tutti gli atti d'amore troppo amore può far male. Quindi il sistema è impegnato a dare le risposte che servono al cittadino e per quel che riguarda le urgenze e le prestazioni da fare in breve tempo abbiamo già in Liguria la fortuna di avere una risposta all'altezza dei bisogni. Dobbiamo fare in modo di ampliare, alcune criticità ci sono, e organizzativamente con la partecipazione dei cittadini, una partecipazione consapevole si chiama dare le risposte senza sprecare le risorse pubbliche perché sono anche queste del cittadino.